Il 18 agosto 2004 abbiamo avuto la quinta riunione del canale detto Golden Age, ad effetti fisici. Quando siamo tornati, dopo aver mangiato in trattoria, abbiamo visto, ci siamo resi conto, di una serie di poltergeist, li abbiamo chiamati così. Un fenomeno di poltergeist è stato che il telecomando del televisore, io che era in cucina, io l'ho trovato nella mia borsa che era nel corridoio ed è esattamente qui. Scusate, scusate. Eccolo, qui in fondo. Quindi questo telecomando ha fatto questo tragitto. Ha percorso il corridoio ed è stato evidentemente preso nella posizione, nelle posizioni in cui è quasi sempre. Cioè in cucina, o qui, o accanto al televisore in cucina, sulla destra, oppure davanti al televisore accanto all'orologio. In effetti, io avevo trovato una penna, un pennarello, che era sul frigorifero in cucina ed è esattamente questo qui, qui accanto. Avevo creduto che fosse la coda di un altro fenomeno di poltergeist avvenuto la stessa sera. Non mi ero ancora accorto che mancava il telecomando, cioè questo, che probabilmente questa volta era al posto del pennarello. Questo si immagina.